Al variare del parametro reale K, studia la natura della conica del fascio di cui è data la seguente equazione Kx quadro meno y quadro meno x meno 4y meno 1 uguale 0. È un esercizio che prendiamo dal testo Nuova Matematica Colori, volume 3 della Petrini. Sarà Petrini, non mi ricordo più. Mi confondo con tutti questi editori che stanno tempestando. Sarà Petrini, come dice qualcuno, mi chiamano gli editori, non a me mi chiama nessuno. Petrini, Leonardo Sasso è l'autore, scherzo ovviamente, qualcuno si offende. Nessun editore mi chiama, non ci vediamo di buon occhio, scherzando assolutamente. Scherzo eh, scherzo ragazzi, invece di scherzare, facciamo le persone un po' easy, come si direbbe adesso, senza fare un po' troppo l'impostati. Allora, studia la conica vale di K, qui dobbiamo vedere tutti i casi. Cominciamo. Ciconferenza? Che deve succedere affinché sia una ciconferenza? Deve succedere che, allora, XY non c'è e siamo a posto. Quindi, AX quadro più BXY più CY quadro più EX più, no, più DX più EY più F uguale a zero dell'equazione generale della conica dove A, B, C, D e F sono coefficienti. A, B, C, contemporaneamente non possono mai essere nulli. Quindi, cosa vuol dire? Che qui, affinché si parli di una ciconferenza, questi due, i due coefficienti che moltiplicano X quadro e X quadro, devono essere uguali e non nulli. Ma affinché siano uguali, se questo è meno uno, anche questo deve essere meno uno. Quindi già possiamo dire, ciconferenza? Circonferenza? È due. Circonferenza? Tre volte. K uguale meno uno, per forza, perché per K uguale meno uno, guardate cosa viene. Meno X quadro, 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 meno 1 uguale a zero. Moltiplichiamo per meno tutto quanto e viene un'equazione di questo tipo. X quadro, più Y quadro, più X, più 4Y, più 1 uguale a zero. E non ci confesso, dovremmo fare, verificare la condizione di esistenza che vuol dire fare meno a mezzo al quadrato, più meno B mezzo al quadrato, meno C, deve essere maggiore o uguale a zero. Dunque, meno a mezzi è un meno un mezzo, K quadrato fa un quarto. Meno B mezzi vuol dire è meno due, K quadrato fa quattro, meno uno. Vabbè, 4 meno 3, 12 quarti, 3 che è 12 quarti, più un quarto è un 13 quarti, un numero positivo. Condizione di esistenza assolutamente verificata, quella è l'equazione di circonferenza, per K uguale a meno uno. Andiamo avanti. La parabola. Allora, di sicuro, affinché sia una parabola, devono essere nulli o il coefficiente che moltiplica di Y quadro, non è questo il caso, perché è meno uno. Ma allora, sicuramente parliamo di una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse X, quindi parabola con asse parallelo all'asse X, quando K è uguale a zero. Perché, infatti, se K è zero, guardate, che succede? Viene un meno X, meno Y quadro, meno 4Y, meno uno uguale a zero, che, in pratica, diventa X uguale, l'equazione diventa X uguale, semplicemente meno Y quadro, meno 4Y, meno uno, è l'equazione cartesiana di una parabola, avente con cavità, o con asse di simmetria, avete parallelo all'asse X, con cavità rivolta nel verso opposto a come è rivolta all'asse X, e poi, come direbbe un mio amico, calcolatevi voi il vertice e così via, insomma, le intersezioni eventuali. Ecco qua. Caso 3, rimangono poi, ovviamente, i casi di ellisse. No? Siamo d'accordo? Tutti d'accordo? Penso proprio di sì. Ellisse. Molto semplice queste discussioni, no? Saluto l'amico Leonardo Sasso, no, non è mio amico, ma il testo di Leonardo Sasso ormai l'abbiamo proposto varie volte. Andiamo a vedere quando è che è un'ellisse. Vi ricordate quando è che è un'ellisse? Quando il prodotto di quei due coefficienti che moltiplicano... Ve lo ricordate che succede? Beh, succede un bel po' di cose, non succede, no? Ma abbiamo capito che è un'ellisse quando... Intanto... Dunque, qua ci parlano di... Studiare la natura, quindi... Non so se dobbiamo fare anche il caso dell'ellisse di iperbole del genere, ma in generale un'ellisse che sia del genere o no, se il prodotto dei coefficienti A e C, cioè i due coefficienti che modificano rispetto a x quadro e x quadro, è un valore positivo, cioè se sono concordi, più più meno meno. Affinché risulti questo, deve risultare in pratica che k per meno uno sia positivo, che vuol dire? Beh, vuol dire meno k positivo, che vuol dire? Vuol dire k minore di zero, moltiplicando per uno. Quindi possiamo dire che... Ve lo confermo, sto guardando se qui anche il buon Leonardo Sasso mette così, beh, per k minore di zero parliamo di un'ellisse. Poi ovviamente, se volessimo addentrarci, il caso del, vi ricordate, di quadro su 4A più e quadro su 4C meno F, deve essere positivo, perché affinché non sia un'ellisse, o non positivo, affinché non sia un'ellisse del genere, il contrario affinché sia un'ellisse del genere, ovviamente. Ma, beh, allora se non è zuppa, è pambagnato, perché ovviamente sarà un'iperbole, un'iperbole, in generale, ovviamente se k è negativo, perché se k è negativo, vuol dire che il prodotto di coefficienti che moltifichano rispettivamente x quadro più un quadro è un prodotto negativo, cioè sono discordi, più, meno, o meno, più. Ovviamente poi, mi potete sbizzarrire, non ho scritto qua i due casi, ma questa è lo studio che viene, penso che venga richiesto, eccolo qua. Il secondo esercizio che c'è in questo video, questa volta che prendo dal testo Matematica Bruto.0 della Zanichelli, sempre il solito, avete visto, ci chiedono di studiare al parametro k reale il fascio di coniche, qui lo leggiamo x quadro, meno 2k quadro, y quadro, meno x, meno 8y, uguale 0, e anche qui dobbiamo fare i vari casi. Comincerei col vedere se è possibile che, nel caso della circonferenza, no? Andiamo a vederli tutti, sulla falsariga, cioè in pratica andando a a guardare quello che abbiamo visto nella spiegazione della discussione di una conica, parabola, 3 ellisse e 4 iperbole. Diciamo che questa è una è una discussione interessante, no? Quando ci danno un fascio di coniche discutono. Può essere una circonferenza quando questi due sono entrambi diversi a zero e uguali, cioè in pratica deve risultare che 1 è uguale a meno 2k quadro, ma vuol dire che deve risultare che 2k quadro è uguale a meno 1. può essere possibile questo? Come fa un 2 che è un positivo e un k quadro che è un positivo uguale a essere pari a un numero negativo? Non è possibile. Non ci sono nessun valore di k, cioè non esiste nessun valore di k appartenente reali per cui quello lì, quella conica lì sia una circonferenza. Niente. Per essere una parabola devono essere nulli uno dei due. Siccome questo è 1 e quindi non può essere nullo, deve risultare meno 2k quadro uguale a zero. ma questo è già più possibile perché vuol dire k uguale a zero. Possiamo allora dire che è una parabola per k uguale a zero. In particolare per k uguale a zero facciamo notare parliamo di una parabola del tipo 8y uguale a x quadro meno x. Quindi parliamo di una parabola con un'asse di similità parla dell'asse delle y. k uguale a zero avete siete accorti, no? Basta metterlo lì guardate cosa succede ripeto viene che meno 8y meno più x quadro meno x uguale a zero cioè in pratica avviene che 8y uguale a x quadro meno x in pratica l'equazione di una parabola mancante di c è y uguale appunto un ottavo di x quadro meno un ottavo. In vertice meno b su 2a è meno b quadro su 4a in questo caso l'asse di similità parla dell'asse di y l'ho detto con cavità rivolta verso l'altro disegnatela se volete questa è la mia parabola e l'ellisse l'ellisse deve quindi k uguale a zero è la risposta può essere un'ellisse per essere un'ellisse attenzione devono essere disegno con corde i coefficienti che moltiplicano rispettivamente x quadro e y quadro quindi deve essere 1 deve risultare 1 per meno 2k quadro maggiore di zero ma questo non è possibile perché 1 per meno 2k quadro è meno 2k quadro ma meno 2k quadro visto che 2 è un numero positivo k quadro è un numero positivo ma meno un numero negativo questo valore è sempre negativo tranne zero quindi questa è la soluzione per ogni k diverso da zero per k uguale a zero già sappiamo che è un iperbole quindi anche qui non esistono assolutamente valori di k che mi verificano nel caso in cui possa essere quello nell'ellisse può essere un iperbole sì può essere un iperbole sempre tranne zero quindi per ogni k diverso da zero è un iperbole per ogni k diverso da zero perché ovviamente se questo è sempre negativo vuol dire che quindi tranne zero ma il caso di zero è una parabola quindi è un iperbole per tutti i valori di k tranne il valore zero anche qui abbiamo facilmente portato avanti e discusso questo fascio di conica ciao ciao ciao